Firenze è una delle 100 città selezionate dalla Commissione europea tra quelle che possono raggiungere la neutralità carbonica con 20 anni di anticipo rispetto agli obiettivi europei nel 2030 invece che nel 2050. Visto che la dispersione energetica degli edifici pesa per il 45% sui consumi, un aiuto verso il raggiungimento di questo scopo è l'accordo che il Comune di Firenze ha firmato con NG per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Nei prossimi nove anni la multinazionale dell'energia metterà mano a 461 edifici di Firenze dai più recenti a quelli storici vincolati dal regolamento Unesco con interventi mirati, pannelli solari ovvero possibile, adeguamento degli impianti termici e dell'isolamento. I numeri 152 scuole, 7 musei, 302 tra biblioteche, impianti sportivi e luoghi di cultura, 3.000 lampade a led, 142 centrali termiche sostituite con generatori di calore ad alta efficienza, 9 impianti fotovoltaici, 684 pannelli. La maggior parte di questi interventi sarà realizzata entro il prossimo anno e mezzo. È stato calcolato che grazie a questa riqualificazione il risparmio nei prossimi nove anni sarà del 30% per l'energia termica e del 20% per quella elettrica. La CO2 diminuirà di 45.000 tonnellate pari a quella che, sempre in nove anni, viene assorbita da 250.000 alberi. NG opera già in 24 comuni toscani, soprattutto sull'illuminazione, ma questo è il progetto più articolato e importante. 9 milioni l'anno l'investimento di risorse comunali, 20 i milioni messi da NG.